ecco il sale, il sale può prendere l'ammonia e trasformarla, direi di utilizzare il sale nella prossima configurazione con cui la pipì viene fatta sul sale, si cristallizza, cristallizzando così poi incanalata con dei batteri, ecco queste sono le cose che vogliamo fare ecco, deve essere tutto di sale, ecco la superficie della nuova costruzione, tutta di sale una grande postura